Muori a te. Massimo, l'ha ammazzato lei. Ma perché è il Mibar? Suo zio e i suoi amici stanno intralciando il nostro lavoro. Ora noi abbiamo un morto e una persona in condizioni disperate. Il problema di questo paese? Il problema di questo paese è che ci sono troppi vecchi a briglia sciorta. Primo teorema, se lo dicono tutti quelli che conosco, è vero. Corollario. In democrazia è sufficiente la maggioranza, ma visto che siamo in Italia, basta un gruppo di coglioni. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS